Affrontare il tema della legalità partendo dai banchi degli istituti scolastici è la mission sostenuta dal Rotary Club di Nocera Inferiore Sarno che ha promosso un incontro formativo per i ragazzi del liceo scientifico Mangino di Pagani quali sono gli strumenti per far sì che i giovani crescano in una società libera lontani dal credere che la violenza possa costituire un modo per affermarsi in società Rotary è attento a queste problematiche perché vede nei licei soprattutto una deficienza delle discipline giuridiche ed economiche io mi sono battuto anche per l'introduzione necessaria nel bienio delle superiori non c'è, allora noi anche come Rotary, come servizio per le comunità giriamo per le scuole in particolare per i licei i Rotary pensano al futuro dei giovani e noi cerchiamo di dare le migliori opportunità Prossimi appuntamenti? è il liceo classico di Nocera, il liceo classico scientifico di Sarno il liceo classico scientifico di Roccapiemonte fino ad Angri perché poi c'è un'altra giuridizione del Rotary noi siamo la rispettosi ma noi ci interessiamo di tutto il territorio dell'agro sarnese nocerino perché dopo 43 anni di esperienza rotariana stiamo facendo qualcosa, anzi abbiamo fatto tanto lungo la storia di questo paese, non sempre bello